L'estate è bello stare all'aria aperta, ma bisogna prendere alcune precauzioni. Vi do qualche consiglio per evitare problemi al vostro cucciolotto. In pochi lo sanno, ma anche noi ci scontiamo al sole. Proteggici con una crema solare nelle zone più esposte come tartufo e orecchie. E attenzione alle zampe quando passeggiamo sull'asfalto. I colpi di calore sono molto pericolosi. Possono verificarsi in pochi minuti e diventare fatali. Tienici al fresco nelle ore più calde, lasciaci sempre all'esposizione dell'acqua. E informati sul sito epa.it per sapere come prevenirli e riconoscerli. Le piccole spighe delle gravinacee possono essere un nemico insidioso, sia per noi che per i gatti. Si attaccano al nostro pelo e con la punta accubinata possono penetrare nella nostra cute, entrare nel naso o nelle orecchie e creare veramente tanti danni. Controllateci sempre al ritorno della passeggiata. Con il caldo le punture di api o vespe non sono rare, purtroppo. E se ci pungono sulla lingua o nella gola possiamo avere delle reazioni allergiche molto pericolose. In caso di puntura rivolgiti subito al veterinario. Infine, il mare è meraviglioso e ci divertiamo molto. Ma attenzione alle ingestioni di sabbia durante il gioco e anche all'acqua di mare. Se ne ingeriamo troppa possiamo avere delle brutte intossicazioni da sodio. Buona estate a tutti dalla vostra Westy!